In vista dell'estate arrivano cambiamenti di palinzesto anche per la rete terzopolista di Urbano Cairo. Abbandonata per un po' la cronaca nera, Salvo Sottile è pronto a tornare in video e prendere addirittura il posto di Lilligruber per quanto riguarda l'Access Primetime di La Sette. Mandato così 8 e mezzo in ferie, Cairo si gioca la carta del popolare giornalista siciliano con Inonda, condotto precedentemente da Luca Telese, affiancato però da Alessandra Sardoni, attuale volto di Omnibus, come anticipato da Davide Maggio sul suo blog. Domenica sera è stato lo stesso direttore del Tg La Sette, Enrico Mentana, a dare la gratitissima notizia a Sottile, il quale, nell'attesa di riprendere in mano Linea Gialla, si dedicherà a questa nuova avventura con la collega di Rete Sardoni. Sarà premiata la scelta di Urbano Cairo?